La mia vita nella Juventus è iniziata il 4 giugno 1946 e sono ancora qui dopo 65 anni Per abbracciarvi tutti Per abbracciarlo con la nostra personale top 10 delle sue frasi sulla vecchia signora Perché la Juve è antipatica? Lo è adesso, lo era quando la dirigevo io, lo sarà in futuro L'invidia rappresenta una medaglia al valore C'è un'eleganza, che non è deliberata, ma che si acquisisce o si interpreta, una volta che viene indossata quella meravigliosa divisa bianconera La Juve, è una fede che continua a essermi appiccicata addosso Sono da compatire quelli che tifano per altri colori, perché hanno scelto di soffrire Sembrava una battuta, invece lo pensavo, e lo penso tuttora La Juve, il sogno della mia vita La sognavo davvero, perché io, che portavo all'occhiello il distintivo bianconero, avevo in quegli anni un solo desiderio Giocare una partita di serie A, con la maglia bianconera Me ne sarebbe bastata una, per essere felice per sempre Essere Juventini, è un modo di vivere, di comportarsi, di ragionare La Juventus, è una società che divide O con lei, o contro di lei La sua forza, il suo fascino A 19 anni, era già favoloso il nostro Alex Attaccano lui, per fare male alla Juve Succedeva anche a me Per questo, durante il riscaldamento, uscivo da solo sul campo, e mi prendevo gli insulti Ero una specie di parafulmine La Juve degli Agnelli, e della Fiat Di qui, il concetto di fabbrica, di produzione Assemblare, e vincere La Juve, non è soltanto la squadra del mio cuore È il mio cuore E ricordare ai giocatori La frase scritta Su un triscione Poco tempo fa Vincere Non è importante Ma è l'unica cosa che conta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti